Perché finalmente dopo 30 anni di illegalità, finalmente il sindaco Brugnaro sta mettendo le cose a posto. Regole certe e chiare per chi vuole proporsi per la gestione del canile di San Giuliano. Questo invocano da anni le associazioni animaliste veneziane che hanno accolto con soddisfazione l'iniziativa dell'amministrazione comunale impegnata a risolvere una situazione definita intollerabile. Secondo voi fino adesso la gestione del canile non ha seguito le regole? No, perché in 30 anni non è stato fatto un bando. La procedura per la realizzazione di un nuovo rifugio per i cani prevede la pubblicazione di un bando al quale chiunque potrà partecipare se in possesso dei requisiti richiesti per garantire il benessere dei cani. Attualmente sono una quarantina quelli ospitati al San Giuliano che dovranno essere assistiti in attesa di una struttura idonea. Siamo per la totale vigilanza dove vanno a finire i cani e soprattutto anche dopo che vanno a fare gli appalti seguiremo continuamente i cani perché a noi sta a cuore il benessere dei cani. Ho massimo rispetto per tutti i volontari che lavorano molto ma molto duramente. Solo la struttura è completamente da rifare. Grazie a tutti.